13 ordinanze di custodia cautelare, 9 in carcere, 4 agli arresti domiciliari eseguite sino alle prime luci dell'alba nel corso di un'operazione antidroga dai carabinieri in alcuni dei comuni della provincia Bat, dove operava un gruppo delito allo spaccio di cocaina, hashish, marijuana ed eroina. L'operazione è coordinata dalla DDA di Bari e condotta dai carabinieri della tenenza di Biceglie in collaborazione con la compagna di Trani. Gli accuse sono di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal numero delle persone e dalla disponibilità di armi. A finire dietro le sbarre anche un componente del noto clan Capriati del capologo pugliese. Oltre 200 i carabinieri supportati da unità cinofile antidroga e da un elicottero dell'arma impegnati nell'operazione. Le indagini che riguardano il periodo che va da luglio 2014 fino a giugno 2015 hanno accertato come la tentacolare presenza del cartello della droga disarticolato questa mattina si estendeva ai comuni di Trani, Biceglie, Corato e Terlizzi potendo contare in ognuno dei centri cittadini su decine di puscera soldati per rifornire con continuità le piazze di spaccio di cocaina, hashish, marijuana ed eroina. L'attività investigativa ha permesso tra l'altro di ben delineare la struttura della consorteria criminale all'interno della quale spiccano Domenico Amoruso, ovvero il proprio promotore dell'associazione nell'area Bicegliese, Michele Migliaccio in qualità di organizzatore, partecipante fornitore di stupefacenti nelle aree di Corato, Trani e Biceglie, i germani Gioacchino e Vincenzo Baldassarre con il ruolo di partecipanti all'associazione e di fornitori di stupefacenti in tutta l'area, attori in prima persona del panorama malavitoso del nord barese ed in grado unitamente ai restanti membri del gruppo di acquistare e rivendere cospicui quantitativi di droga. La pericolosità dell'associazione è risultata ancora più marcata per l'accertata disponibilità di armi e munizioni acquistate anche on demand con estrema facilità e apprezzi contenuti nonché per la diversificata natura degli interessi nutriti. Emblematica poi la conversazione captata nei militari dell'arma durante uno spostamento in auto intrattenuta da uno dei membri con il proprio figlio 16enne. Da buon padre di famiglia l'uomo illustra la sua collocazione all'interno dell'associazione per delinquere augurando al proprio discendente di acquisire presto il know-how e l'adeguato spessore criminale per potersi affiliare. Incalzato dalle domande del giovane l'uomo spiega tutti i livelli di prestigio all'interno dell'associazione. I gradi dal primo al più basso ottenuto successivamente all'affiliazione sono in tutto sette picciotto, camorrista, sgarro, santo, vangelo, crimine e infine medaglione detto anche carica completa. Degni di note, risultati portati a termine anche nel corso delle indagini, tenuto conto che sono state arrestate nella flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per violazione della normativa in materia di detenzione di armi e munizioni nonché per altri reati contro il patrimonio, sette persone sequestrando oltre 250 dosi di cocaina, quasi mille dosi di hashish, alcuni chili di marijuana e diverse dosi di eroina, nonché una pistola, 50 cartucce, denaro in contanti, quale provento dell'attività illecita.